Eccolo, ecco lo scatto di Pantani, avevamo detto due erano le possibilità per Pantani, o puntare alla vittoria di tappa o puntare alla classifica, ecco il testa a testa più atteso, Urric nella scia di Pantani, Pantani Urric, poi Jalavert, Urric recupera Pantani sui pedali, Pantani si volta, Urric in seconda posizione naturalmente una differenza di rapporto, Urric comincia a voltarsi, questo guardare intorno, questo guardarsi in giro denota, denota un'insicurezza da parte della maglia gialla e sta forse per pagare Urric lo sforzo che ha dovuto effettuare, ecco che si volta, si sposta, ecco che Pantani raggiunge Beltrame, Pantani solo all'inseguimento del corridore svizzero, ancora Urric che si volta, cerca aiuti, chiede aiuti, Pantani poi